Un capolavoro del Rinascimento, un patrimonio mondiale riconosciuto dall'UNESCO, è il giardino di Villa d'Este a Tivoli ed è uno dei suggerimenti di enciclopedia fra le cose da fare o da vedere durante questo weekend. Un tempo era chiamato il giardino delle meraviglie, oggi è considerato un capolavoro del Rinascimento, così come era nelle intenzioni del cardinale Ippolito II d'Este che deluso dal mancato seggio papale a metà del Cinquecento nominato governatore di Tivoli affidò l'incarico del progetto al suo eclettico antiquario Pirro Ligorie. Concentrato in appena due ettari di terreno lungo il pendio della Valle Gaudente, il giardino di Villa d'Este è un trionfo dell'acqua con le sue 51 fontane, le grotte e i ninfei, i viali e le terrazze dove circa 400 zampilli creano forme e suoni in un fragore costante quanto stupefacente. Un incanto di giocchi d'acqua che dalla maestosa fontana dell'odato affascina il visitatore lungo un percorso che tra allegorie e figure mitologiche esprime il senso della natura e delle arti. È il colpo degli zoccoli di Pegaso il cavallo alato a far sgorgare la fonte che alimenta le muse che qui dimorano. Dall'alto al basso un ingegnoso impianto idraulico basato sulla sola forza di gravità, anima lezzante e meraviglie. Come la fontana dell'organo che ogni due ore suona la sua melodia generata da una sofisticata macchina idraulica basata sul meccanismo del carillon. In origine quando la musica finiva grandi getti d'acqua simulavano un diluvio che si riversava nella sottostante fontana del Nettuno e poi successivamente nelle peschiere mentre quasi per magia appariva un arcobaleno. Il tempo ha modificato l'aspetto del giardino sia per il deterioramento della pietra che per la rigogliosa vegetazione che ricopre originarie decorazioni come quelle nascoste dal Capel Venere nel viale del Cento Fontana. Ma con un pizzico di immaginazione ed una buona guida turistica il giardino di Villa d'Este può essere ancora visto come il giardino delle meraviglie di 500 anni.